I lavori nella seduta del 26 aprile del Consiglio regionale delle Marche sono iniziati con l'esame della proposta di legge 130 definita Omnibus, poiché si applica a molteplici settori. A spiegarne più in dettaglio il testo è il relatore di maggioranza Francesco Giacinti dell'EPD, che ha illustrato la parte di competenza della prima commissione di cui è presidente, lasciando agli altri presidenti, Traversini, Volpini e Biancani, la parola sugli articoli di relativa competenza. Gli obiettivi sono molteplici, da un lato una semplificazione, da un altro l'eliminazione di alcune norme che non sono più congure rispetto a un'intervenuta modifica normativa a livello statale, ad esempio, e in alcuni casi anche un intervento puntuale su alcune questioni, una per tutte. Parliamo spesso di terremoto, di interventi relativi al terremoto, si coglie l'occasione per far sì che la Giunta, snellendo l'iter previsto, per il 2017 possa accelerare questo iter che la normativa prevedeva, al fine di poter riorientare, passatemi questa espressione, i fondi del programma operativo regionale in chiave tematica sisma e credo che sia un aspetto importante ai fini di poter dare una risposta celere, certa, più efficace nei confronti di un tema che occupa ovviamente l'attenzione di tutta la regione, perché di fatto è questo il tema più centrale, purtroppo uso questo avverbio che ci tocca da vicino. La proposta di legge 130 risponde a diverse esigenze, la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore, l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia, la delegiferazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge, la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo, la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono ai fini dell'esercizio di un'attività il rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione e permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato. Il relatore di minoranza Jessica Marcozzi di Fratelli d'Italia ha confutato gli obiettivi del testo di legge, ascoltiamo quindi la sua posizione. Questa proposta di legge 130 è una proposta che riguarda la semplificazione, ma in realtà di semplificazione non c'è quasi nulla. Due sono gli obiettivi di questa legge. Il primo obiettivo è quello di risolvere questioni circoscritte a particolari incarichi o settori. Il secondo obiettivo è quello di trasferire le competenze del Consiglio nelle mani della Giunta. Un atto antidemocratico, ma soprattutto un'offesa al Consiglio, perché si trasferiscono le competenze che sono proprio dell'Assemblea Legislativa e quindi del Consiglio nelle mani dell'organo della Giunta.